ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del puzzillo del sud chi vi parla è il vostro sempre più naufrago incarognito puzzillo e oggi vediamo il tutorial e la recensione di maretta prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno non dimenticate di attivare la campanella e se davvero apprezzate quello che sto facendo prendete in considerazione l'idea di abbonarvi al canale inoltre se siete interessati all'acquisto del bundle ovvero maretta più extra sappiate che soli per 14 giorni è disponibile uno speciale codice che fornisce il 5 per cento di sconto aggiuntivo assieme alle spese di spedizioni gratuite ma occhio perché questo termina il 2 maggio insomma se siete curiosi vi lascio qui il codice che vi rimanda direttamente allo shop dell'editore maretta è un gioco da tavolo competitivo da 3 a 5 giocatori della durata indicativa di 15 20 minuti a partita edito dalla creardo che fra l'altro ringrazio tantissimo per avermi fornito la copia per potervi fare questo video e infine l'autore emanuele sassi zanichelli in questo filler i giocatori andranno a guidare dei poveri naufraghi che dovranno affrontare due scenari differenti nel primo bisognerà scappare dall'isola poiché è stata avvistata una nave e cercheremo di arrivarci il più velocemente possibile facendo sgambetti agli altri naufraghi invece nel secondo scenario il vulcane è ruttato e dunque nostro malgrado dovremo abbandonare l'isola la lava si avvicinerà sempre di più verso la spiaggia e ciò significa che sarà una corsa spietata per buttarsi in mare sfruttando le carte dovremo effettuare i movimenti corretti facendo attenzione agli effetti dei vari barili ma non dimenticatevi che gli altri giocatori faranno di tutto pur di farvi perdere ovviamente la presentazione è durata anche fin troppo e quindi vai con il tutorial prepariamo una partita per tre giocatori a maretta per prima cosa posizioniamo il tabellone al centro del tavolo rivolto su questo lato e poi inseriamo esattamente su questi spazi la tessera nave e le due tessere barriera corallina fatto questo prendiamo tutte le tessere barile le mescoliamo coperte e subito ne piazziamo due accanto le rispettive icone sul tabellone di gioco adesso tutti i barili nella zona più vicina alla nave vengono rivelati mentre nella zona di mezzo riveliamo un barile da ogni spazio sistemato il tabellone è il momento di preparare le carte e per prima cosa togliamo tutte le carte nave dal mazzo delle risorse e poi queste vengono mescolate coperte fatto ciò sempre coperte peschiamo tante carte nave pari il numero dei giocatori e invece per quanto riguarda il mazzo delle risorse anche queste carte vengono mescolate coperte ma poi in base al numero dei giocatori rimuoviamo dal gioco un tot di carte adesso possiamo aggiungere le carte nave che abbiamo pescato in precedenza e poi l'intero mazzo viene mescolato nuovamente fatto questo diamo ad ognuno dei partecipanti quattro carte e adesso è il momento di scegliere un colore non appena un giocatore ha scelto il colore che vuole utilizzare tiene vicino a sé la carta zattera e poi piazza la sua pedina su questo spazio del tabellone che rappresenta l'isola di maretta infine come ultimo passaggio della preparazione se assegna casualmente la tessera primo giocatore è fatto questo è tutto pronto per iniziare una partita maretta si divide in turni ogni turno è diviso in tre fasi e ogni fase deve essere eseguita completamente prima di passare alla successiva iniziamo dunque a spiegare le varie fasi e partiamo dalla prima giocare una carta questa fase viene giocata in simultanea da tutti i presenti e dunque ognuno dei giocatori sceglie una carta presente nella propria mano e la pone subito coperta sullo spazio a sinistra della propria carta zattera quando tutti sono pronti le carte finalmente vengono rivelate e ciò conclude la prima fase finita la prima si passa immediatamente alla seconda fase e questa fase viene giocata a partire dal primo giocatore e proseguendo in senso orario il giocatore attivo durante il proprio turno deve prendere una carta dalla sua mano e la deve assegnare a un avversario a patto che lo spazio a destra della zattera di quell'avversario sia libero per contenere una carta il giocatore che appena ha ricevuto la carta si muove di tanti spazi pari la differenza tra le due carte e visto che tra 1 e 2 vi è una differenza di 1 allora il giallo si muove esattamente di uno spazio i spazi sono divisi dalle onde o dalle barriere coralline e se un giocatore termina il suo movimento in uno spazio con dei barili allora ne deve scegliere uno se è coperto rivelarlo e poi una volta risolto l'effetto il barile viene rimosso dalla partita risolto l'eventuale effetto del barile adesso il giocatore che ha assegnato la carta si muove sempre di 2 e quindi tornando all'esempio di prima il giocatore turchese che ha dato la carta al giocatore giallo si muove di 2 dopo che il giocatore attivo si è mosso di 2 tocca al prossimo giocatore in senso orario che a sua volta dovrà dare una carta ad uno dei suoi avversari spieghiamo adesso due regole particolari in merito all'assegnazione delle carte se un giocatore fornisce a un avversario una carta con lo stesso valore e con la stessa immagine allora si applica il furto il furto permette di prendere una carta dalla riserva di quell'avversario e la carta che è stata prelevata viene messa nella propria riserva tranquilli se non sapete che cos'è la riserva è normale perché a breve vi spiegherò il suo funzionamento altra nota importante è che quando il giocatore attivo effettua un furto allora non può effettuare i due spostamenti come giocatore attivo e se un giocatore è costretto ad assegnare la carta a se stesso poiché tutti i suoi avversari hanno già una carta allora piazza sullo spazio libero della propria zattera la carta scelta dalla sua mano e poi si muove pari alla differenza delle due carte presenti ma non effettua i due movimenti come giocatore attivo quando tutti i giocatori hanno agito durante la seconda fase come giocatore attivo si passa alla terza e ultima fase e di norma questa prevede che il primo giocatore passi al prossimo giocatore in senso orario e poi le carte nella propria zattera vengono messe nella propria riserva è consigliabile impilare le carte con la stessa immagine e al massimo si possono ottenere cinque immagini diverse sistemate le riserve ognuno dei partecipanti pesca due carte dal mazzo e quindi si ricomincia dalla prima fase vediamo invece quali sono le condizioni per concludere la partita se alla fine della terza fase un giocatore è salito sullo spazio nave allora vince la partita e se più giocatori hanno soddisfatto questa condizione tutti quei giocatori vincono la partita se invece il mazzo di carte si esaurisce e dunque non si possono pescare più carte allora vince il giocatore più vicino alla tessera nave e infine se durante la terza fase uno o più giocatori hanno una carta nave allora la partita potrebbe finire in modo anticipato per prima cosa ognuno dei partecipanti calcola la differenza tra le due carte nella sua zattera e poi aggiunge più uno per ogni immagine diversa presente nella sua riserva se il giocatore è arrivato a 7 allora sale sulla tessera nave e vince la partita se invece nessuno dei presenti è riuscita in tal impresa allora la carta nave viene rimossa dal gioco mentre le altre carte vengono messe nella riserva se alla fine di un turno più giocatori vincono anche su diverse condizioni allora tutti quei giocatori condividono la vittoria spiegato fuga da maretta vediamo velocemente le differenze con fuga da vulcano alcuni elementi vengono completamente rimossi dalla partita come ad esempio le carte nave o i barili di seppia e questa volta è una corsa contro il tempo poiché la lava si muoverà sempre verso i giocatori e costoro dovranno cercare di arrivare direttamente in acqua così da potersi salvare pure in questo caso più giocatori possono condividere la vittoria oppure un giocatore rimane l'unico sopravvissuto perché gli altri sono stati eliminati dalla lava per quanto riguarda il flusso di gioco è piuttosto simile ma in fuga da vulcano a partire dal primo giocatore ognuno assegna una carta scoperta sul carrello di un avversario e poi nella seconda fase è il giocatore attivo che si assegna da solo una carta facendo attenzione che questa non abbia né l'immagine né il numero in comune con l'altra quando tutti hanno fatto le carte vanno nella riserva dividendole per immagine ma attenzione poiché se i valori di un'immagine superano il 5 allora l'intera pila viene scartata poi le pile rimanenti forniscono il numero di movimenti e ad esempio questo giocatore avendo una sola pila si sposta di una posizione verso il mare spostarsi ovviamente è fondamentale perché poi la tessera lava si muove sempre di tre spazi e mi raccomando non dimenticate di attivare i barili e di pescare due carte passando il primo giocatore se ancora non ne avete abbastanza sappiate che il gioco può essere personalizzato arriviamo infine alle mie impressioni su maretta allora partiamo dal presupposto che stiamo parlando di un filler competitivo che deve essere apprezzato ovviamente per il suo target il target sono tutti quei giocatori occasionali o anche neofiti che cercano un'esperienza veloce semplice e parecchio personalizzabile da lodare il fatto che acquistando il solo gioco base sono presenti due modalità e addirittura lo si può personalizzare grazie alle istruzioni riportate sul manuale in aggiunta mettiamoci l'extra carnivore pack che porta il gioco a sei giocatori e introduce delle novità nuovi elementi modifica il regolamento come alcuni sistemi alterati e infatti maretta si pone come un'esperienza che il giocatore può affrontare diversamente voglio un gioco più tranquillo allora inizio da fuga da maretta mentre se invece mi piace la forte interazione passo a fuga da vulcano se ancora voglio sperimentare con delle mie regole posso creare delle modalità ad hoc mettiamoci anche che l'editore ha già comunicato che usciranno delle modalità extra nei prossimi mesi e infatti per il solo biglietto d'ingresso ovvero il prezzo del gioco base si può sfruttare un filler dai molteplici usi per quanto il tema possa sembrare spietato in realtà è comico e infatti il gioco non si prende mai seriamente sul fronte delle meccaniche apprezzo sempre tantissimo questi giochi di carte dove bisogna calcolare dei valori in base alle differenze oppure agli elementi accumulati e infatti anche sul fronte del gameplay maretta lascia scegliere al giocatore bisogna dire che le poche differenze rendono l'esperienza abbastanza differente tra le due modalità e infatti per essere un filler secondo me molto buona anche la rigiocabilità questo discorso si collega molto non solo alle due modalità ma anche agli extra e alle regole che potranno creare i giocatori e se proprio dovessi trovare un problema in questo titolo è che per come sono fatto io o vince uno o non vince nessuno detto ciò fatemi sapere un pochettino la vostra a me il filler è piaciuto ovviamente rapportato al suo però ci tengo a sapere cosa ne pensate voi del tutorial della mia recensione insomma commentate qua sotto vi ricordo infine di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno non dimenticate di attivare la campanella e se davvero apprezzate quello che sto facendo prendete in considerazione l'idea di abbonarvi al canale vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao ciao